Con noi in studio c'è Giorgio Firingeli, il Presidente del Lance di Ragusa, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili della provincia di Ragusa. Nei giorni scorsi abbiamo sentito un po' il grido di dolore, ma poi il grido di dolore oggi sono da tutte le parti, da quelli che fanno le uova a quelli che fanno le costruzioni, dalla benzina, purtroppo la situazione è quella che è, però affronteremo l'argomento del grido di dolore, ma partiamo un attimo con le immagini di ieri, perché noi ieri siamo stati in prefettura e abbiamo seguito la firma di un protocollo, ecco le immagini fra la prefettura, le prefetture, perché è una cosa nazionale e l'Associazione Ance. Allora Presidente dimmi, ma questo protocollo perché ci tocca, cosa è in pratica, come riguarda noi? Buonasera direttore, grazie per l'invito. Il protocollo in realtà questo a livello territoriale è un protocollo di adesione ad un protocollo nazionale, perché il protocollo è stato firmato a Roma, con il Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Gabriele Buia, col Ministero dell'Interno. Quindi il protocollo è stato firmato a livello nazionale e tutte le prefetture di tutte le province d'Italia si stanno... L'hanno ribaltato sul territorio. Esatto, e quindi ogni associazione nazionale costruttori territoriali ha aderito a questo protocollo. Sostanzialmente cosa dovreste fare? L'Associazione è abilitata a poter entrare in una piattaforma e verificare la situazione di problemi naturalmente riguardanti la questione mafiosa, di eventuali imprese, quindi riguarda subappaltatori che eventualmente possono essere. Quindi diciamo che è un controllo maggiore delle... È un'abilitazione all'Associazione. Io non prima avevo pensato, ho detto la verità, che centrasse la questione del 110%, perché ultimamente c'è stato un grido di dolore, ma è venuto fuori questa regola che ora un po' ci spiegheremo, che vi ha messo in difficoltà, perché qualcuno ha fatto il furbo, sempre così, no? Che cosa è accaduto vedendo con questo 110% che ha messo in allarme i costruttori? Io direi che i bonus devono essere divisi in due situazioni. Ci sono i bonus del 110% e i bonus del 90%. Perché faccio questa distinzione? Perché mentre il bonus del 110% necessita almeno di 70 adempimenti, quindi sono controllati, quello del 90% in un primo momento era molto più libero, era free. Questo ha dato la possibilità, si sono verificate delle anomalie nell'applicazione. Cioè se è troppo facile qualcuno ha fatto il furbo? Devo dire che anche questo riguarda, io do solo un dato di nascita di imprese, nell'ultimo anno di circa 12 mila imprese, che non hanno niente a che vedere con il nostro settore, perché questo lo ha detto il mio Presidente nazionale e lo ribadisco anche 12 mila imprese. 12 mila che era una finalità esattamente solo ed esclusivamente per il 90%. Ecco perché stiamo chiedendo a livello nazionale, stiamo chiedendo l'introduzione e la possibilità di poter operare solo con imprese qualificate e chiediamo che nel 110, questo è forte l'intervento che stiamo facendo a livello nazionale, che il lavoro, visto che si tratta di finanziamenti pubblici, ci siano delle condizioni perché siano affrontate da imprese qualificate, sulla qualificazione delle imprese. Eppure questo dovrebbe essere quasi naturale, perché sappiamo che per fare questo 110 o 90, ci vogliono imprese che abbiano le spalle, che ci siano le banche, che possono poi anticipare, o che si possono fare anticipare i soldi, ma certo la banca mica è stupida, anticipa a ditte serie. Purtroppo con il bonus facciata non è andata così, con il bonus facciata è andata che in realtà bastava presentare una fattura, un credito perché la banca magari potesse eventualmente acquisire il credito e trasformarlo in liquidità, questo è stato bloccato con i vari decreti, solo che i vari decreti che cosa hanno sortito? Hanno sortito l'effetto del blocco esattamente delle piattaforme, quindi oggi le imprese, l'ho detto e l'ho ripetuto tante volte, le imprese soffrono della chiusura delle piattaforme, quindi non hanno la possibilità di cedere credito, non hanno la possibilità di avere la liquidità disponibile per continuare i lavori e ci sono dei grossi problemi. A questo accompagniamo anche la situazione di un'esplosione di cari materiali, che è dovuta alla guerra, è dovuta alla guerra, è dovuta alla speculazione, oggi il Ministro ha detto anche che determinati aumenti sono quasi non giustificabili, è una mezza truffa, però su questo che cosa? Anche su questo viviamo una situazione terribilmente difficile, perché ci ritroviamo, e mi riferisco agli apparti pubblici, in modo a quelle imprese che agiscono nel campo del pubblico, abbiamo imprese che si trovano con contratti di apparti già acquisiti e chi invece deve partecipare a gare future? Oggi assistiamo a gare importanti a livello nazionale dove le imprese sono imprese che non stanno neanche partecipando, perché? Perché? I prezzari non sono aggiornati, le gare si svolgono… Certo, se sono prezzari l'anno scorso che dicono mille linee al chilo… Consideriamo che abbiamo aumenti, il petrolio è aumentato del 62%, l'energia è aumentata, non parliamo del ferro, non parliamo del cemento… La preoccupazione a livello nazionale lo stiamo dicendo fortemente, stiamo chiudendo i cantieri, perché non possiamo andare avanti? Questo significa non poter dare seguito alla conclusione del PNRR che ci vede impegnati come categoria protagonista dell'espletamento del PNRR e ci porterà esattamente alla chiusura dei cantieri, perché non ci sono le condizioni. Non vorrei essere… Catastrofista! Esatto, pervaso da un atteggiamento che già Presidente, tutti i telegiornali sono già catastrofisti, io oggi credimi ho anche scritto alla 7 dicendo ma ce la… non l'ho mai fatto, ma ce la finite, perché proprio sono esagerati, c'era quella che voleva… la guerra… la bomba d'oro, ma per forza buttare la bomba d'oro? Non è bello! Allora, per non essere catastrofisti… No, perché non sono abituati esattamente a fare sempre un'analisi di situazione negativa, ma oggi è difficile andare, perché capiamo esattamente anche a livello di governo nazionale quali possono essere i problemi, il nostro è un settore che ha dei problemi, ma non è il solo e quindi capiamo esattamente le difficoltà. Mi vede un po' preoccupato perché non riesco a vedere la luce a risolvere questo problema e sappiamo esattamente che il nostro è un settore che quasi quasi al Ministero ci dicono che è stato gratificato, già perché 110 è stata una bella, cercate più di questo, però in realtà c'è il rischio di fallire di lavoro, una volta si falliva perché non si trovava lavoro, oggi avere un appalto, acquisire un appalto con dei prezzari non aggiornati, con il continuo aumento dei prezzi, lo devi onorare, c'è il rischio che chiudi il cambiere. Allora, scusa Presidente, a questo punto, noi non siamo in grado di arrivare lì, però quale sarebbe la giusta soluzione in questi casi? Cosa dovrebbe fare il Ministero? Va bene i controlli su… Assolutamente, quello che chiediamo è quello di cercare di venirci incontro per quanto riguarda il caro materiale, questo è venirci incontro e quindi c'è un intervento che faccia chiarezza, che ci dia la possibilità in ogni caso una revisione dei prezzi che sia adeguato all'aumento dei materiali. Io non sono un costruttore, chi la fa la revisione dei prezzi? Cioè a chi tocca fare questo? Deve essere normato, deve essere normato. Deve essere normato. C'è stato messo, con un'alea superiore al 5% e quindi all'8%, non ricordo, era prevista una norma perché si possa rientrare in quelle spese. Sono state messe a disposizione 100 milioni di Euro per tutta Italia, pochissime, non si sono visti neanche i risultati perché ancora dal primo semestre del 2021 nessuno è riuscito a compensare questo aumento di caro prezzo. Quindi il caro prezzo si sta mettendo in ginocchio. Ma la preoccupazione più grande è quella che i lavori non vanno avanti e la cosa ancora più grave è che non ci sia la possibilità di appartare i lavori nuovi che si possono mettere. Perché non ci parteciperà nessuno. Questo è una cosa molto grave, anche perché, come abbiamo detto migliaia di volte, per esempio Ragusa è una città che sul mattone, come si dice, ci ha sempre vissuto. Ma a questo proposito, Presidente Firringeli, come va il mercato del mattone? Perché chiaramente, per esempio, ora c'è la preoccupazione, il consumo del suolo, non possiamo fare gli appartamenti, però la gente li vuole fare gli appartamenti. Gli imprenditori vogliono costruire, ci sono i contenziosi con il Comune, non te lo faccio fare, te lo faccio fare. Sappiamo che il Comune rischia, perché ha delle denunce ufficiali, di pagare alla cooperativa Pagoda, a quelli della Tecnet, pagare milioni di Euro. Qual è la realtà a questo punto? Noi è giusto costruire o non è giusto costruire? Allora, a settembre, quando… Questa è la cosa più… Credo, sì, era già una domanda e già mi ero espresso su questo punto. Sì, ora però il tempo passa. Il tempo passa e, allora, diciamo che continuare ad allargarci non la vediamo neanche noi come… non va bene, quindi riuscire a costruire su quei lotti che sono all'interno. Il problema anche su questo, perché i prezzi… Io ho avuto contatto con delle imprese che stanno costruendo e quindi delle imprese che costruiscono e poi vendono. Il prezzo col caro prezzo, già si parla che è un appartamento normalissimo e così parliamo della realtà ragusana, un appartamento in questi sei mesi non si può vendere meno… 30 mila Euro in più di quando si vendeva sei mesi fa, perché il caro materiale… Il problema è quello che è costruito… Però non c'è chi se lo compra. Il problema è che esci fuori dal mercato, quindi anche questo subirà, purtroppo dico, c'è il rischio di subire anche là un blocco, anche per quanto riguarda… Qua sembra però una specie di gatto che si morda la coda, insomma, c'è un circolo chiuso… La cosa che mi preoccupa maggiormente è quella, perché il referente per tutto questo sicuramente non è la territorialità, non è Ragusa che può risolvere questo, è un problema che va al di là, che ha il sistema centrale e che al sistema centrale capiamo esattamente che è uno dei tanti problemi, perché anche il settore tessile, il settore del commercio, il settore del turismo hanno i loro problemi, noi abbiamo avuto delle agevolazioni e quindi da un certo punto di vista ci danno quasi per dire voi l'avete già avuto, però in realtà è questa la preoccupazione del grido, il grido di allarme, ci preoccupiamo perché quello che ci è stato dato diventa difficile attuare e può rischiare di essere negatombe dal punto di vista imprenditoriale nel settore. Però la speranza è proprio che… perché ci sono le associazioni? Perché ci sono i sindacati? Allora, l'associazione Ragusa quanti siete? Tantissimi? In Ange più di cento. Più di cento, allora a livello nazionale saranno migliaia e migliaia. 12 mila? 12 mila, 12 mila aziende che parlano con il ministero, qualcosa le devono spiegare, perché se non riusciamo neanche a fare questo, sono convinto che purtroppo mettiamo delle persone non all'altezza della situazione in molti punti, questo purtroppo lo devo dire, però qualcuno glielo deve spiegare, sennò di qua non usciamo. Non c'è un settore che oggi può dire ce la passiamo bene, a meno che non sia quello che produce i vaccini. Quello è andato bene e basta. Io posso testimoniare e dire che ogni giorno l'Associazione Nazionale Costruttori Edili a Roma è presente al ministero, a bussare tutte le porte, c'è un impegno quotidiano da parte di tutta la struttura nazionale, lo posso garantire questo, però capiamo esattamente le difficoltà che ci sono in questo... Anche perché purtroppo, come tutti sanno, non sono momenti molto allegri con tutto quello che capita. Va bene Presidente, siamo stati molto chiari, però dicevo per chiudere, questa richiesta del 110 continua a essere il Cine dell'Ombento. C'è, no? La richiesta, anche su questo soffriamo di un altro problema, lasciamo il caro materiale che è il problema di recuperare i materiali, perché non è soltanto il problema di acquistarli esageratamente, ma non abbiamo neanche dove andarli a comprare, perché anche la produzione è stata messa in ginocchio. Abbiamo un problema, è stata fatta una valutazione che nel settore edile ci mancano 265 mila operatori, perché anche il settore dell'edilizia... 275 mila persone che lavorano, che dovrebbero lavorare e oggi ci manca anche questo. Anche su questo voglio approfittare per dire che è un settore che stiamo cercando, proviamo a rilanciare in tutti i modi, di rendere quanto più appetibile. In questo momento particolare di crisi siamo riusciti a rinnovare un contratto nazionale, perché in questo momento rinnovare un contratto nazionale significa un riconoscimento alle maestranze di un qualcosa che poi viene mediato in una trattativa sindacale e devo dire anche a livello territoriale che abbiamo anche rinnovato il contratto provinciale, ma proprio per dare input anche al settore e renderlo quanto più appetibile anche per le future. Certo, questo è impressionante. Mancano le persone nei ristoranti, mancano le persone nelle edizie, mancano negli ospedali, manca. E poi dice la gente non lavora, ma come cavolo dobbiamo fare? Presidente Fidringeri, Giorgio Fidringeri, Presidente Lancia, grazie. È stato chiarissimo, abbiamo fatto il quadro esatto della situazione e speriamo che qualcuno ci aiuti. Grazie direttore, andiamo avanti con il telegiornale. Grazie.